Nella tua musica c'è politica? Cioè la tua musica è politica un po'? Sì, io credo che, nel senso, quando ti muovi nel mondo in maniera pubblica, fai della politica, sinceramente. Anche soltanto il fatto che tu ti presenti con un certo corpo, con una certa immagine. Sì, secondo me anche quello è fare politica, forse è una politica ovviamente di temi più sociali, di temi più valoriali, che sono quelli che mi toccano a me, ecco. Chiedo la parola, chiedo la parola. Vada con la parola. Posso? Certo. Secondo me, dirò una banalità, ma il fatto che il rap, la musica giovanile, si sia schierata nettamente su questioni come l'antirazzismo o la libertà sessuale, è potentissimo. Non è ovvio, perché viviamo in un mondo in cui questi valori sono continuamente calpestati e quindi abbiamo visto anche star, che tutto sommato chi gliela faceva fare, che si sono compromesse per sostenere, ad esempio, che non puoi dividere i ragazzi italiani a seconda del colore della loro pelle. E poi su questo si sviluppano altri ragionamenti, no? Parlavamo della incomunicabilità tra il mondo degli sfigati in Italia e i privilegiati. Il problema è che tra gli sfigati si è diffusa parecchio l'idea che i più sfigati di tutti siamo noi perché siamo italiani, il vero razzismo è contro gli italiani. Se vogliamo cavarci la bisogna che ci proteggiamo come piccolo gruppo rispetto anche a quelli che fanno il mio stesso lavoro, ma che vengono da un altro paese. Allora, su questioni di vita quotidiana concrete come queste, io credo che la musica è schierata per fortuna. Esatto, io credo che esattamente sia così. È inevitabile schierarsi, secondo me, anche se parli di certe cose in una certa maniera, nel senso che tu sei nel mondo e sei nel mondo in una determinata maniera. E quando lo racconti con la musica si vede il tuo punto di vista sul mondo. E poi sono d'accordo che certi valori oggi, paradossalmente valori conquistati, debbano ancora essere difesi. E abbiamo bisogno che siano difesi, ma io credo di condividerlo anche con tanti colleghi.